dopo due anni e mezzo quasi 18 mila chilometri fatti e tante tante soddisfazioni ed emozioni oggi è l'ultimo giro e giorno con la stall m1 world cup domani andrò a ritirare la nuova bici portate pazienza e ve la introdurrò in uno dei miei prossimi video mi piange il cuore ogni volta che lascio una bici è come se un pezzo di me si staccasse con lei